Sì, ci mancava qualcuno, ma comunque è una rosa ampia allestita con dei otteni giovani e oggi ha dimostrato, convignato, poi quando è entrato Rovaglia, Bertagnoli, comunque possiamo fare affinamento sul tessuto, questo è il lato positivo nostro e sappiamo che l'occorrenza si serve, ma appunto ci sono degli altri miei locatori. Io ho chiamato la palla, ho capito di essere solo e Cesar è stato bravo a vederlo, ho fatto lo stop perfetto, il tiro perfetto è probabilmente figlia di un periodo mio molto positivo. Siamo contentissimi veramente di questa vittoria, l'Ascoli è un'ottima squadra, veniva due sconfitte, forse avevano poca sicurezza in loro, mancavano anche due buoni giocatori, noi bravi da approfittarne a fare la nostra partita. Diciamo che abbiamo visto quello che abbiamo fatto finora, avevano un grande attacco, avevano subito pochi gol, però sappiamo che se prepariamo le partite comunque possiamo sempre dire la nostra, perché noi dobbiamo fare un campionato là davanti, lo sappiamo, per la squadra che abbiamo, per i giocatori, per le qualità che abbiamo. Oggi l'Ascoli magari leggermente sotto tono e abbiamo comunque rischiato, inizio e secondo tempo, ci è andata bene, poi senti bravi comunque a chiuderla e a non subire tante occasioni. Grazie.